Il grido di dolore di una madre ha scosso le coscienze di mezza città da quasi parte. La risposta delle scuole è meravigliosa perché raramente i presidi insieme ai docenti, insieme agli insegnanti scendono in piazza, ma non solo loro, veramente abbiamo raccolto adesioni da tutta la società civile, del sindacato napoletano, quindi un popolo in cammino, ci sono tantissimi familiari di vittime innocenti di Camorra, una manifestazione meravigliosa per composizione. Purtroppo questa manifestazione si inserisce in un percorso che è iniziato qualche anno fa, quando proprio un popolo in cammino, dopo la morte di Gianni Cesarano, pose dei problemi alle istituzioni di questa città rispetto al futuro dei giovani. Dispersione scolastica, quartieri e periferie dove i giovani sono abbandonati, non hanno strumenti per discendere il giusto o lo sbagliato, le alternative, reddito degno, un lavoro degno e quindi purtroppo siamo ad affrontare sempre le stesse situazioni. Questo è il momento di reagire, di reagire ulteriormente, ma soprattutto di interrogarci. Basta parlare di Gomorra, iniziamo a parlare di come si sconfiggono le Camorra. È una risposta bellissima, tantissimi giovani, migliaia e migliaia di persone. È la risposta di un popolo che lotta da tempo per rinascere, che è la maggioranza dei napoletani. C'è una minoranza che però non va sottovalutata, che preoccupa, questo episodio è gravissimo. L'avevo chiesto qualche giorno fa la mobilitazione delle coscienze dei napoletani e c'è stata non solo la mobilitazione delle coscienze, ma la mobilitazione dei corpi, delle persone. Questa è Napoli e Napoli saprà affrontare con l'unione del suo popolo un tema così preoccupante, che non è solo napoletano. È nazionale, è globale. La crisi dei valori è capire perché a 12-13 anni si impugna un coltello o una rivoltella. Se non lo facciamo subito, fra qualche anno la situazione potrebbe non essere più controllabile. Le istituzioni, la scuola, le comunità laiche, religiose, le famiglie, i luoghi del lavoro. Se me lo consentite anche la comunicazione, l'informazione, che deve raccontare i mali, ma deve raccontare anche il bene. Perché noi dobbiamo dare le prospettive ai ragazzi di poter scegliere. Certe volte i ragazzi non è che nascono delinquenti, lo diventano perché il contesto certe volte non aiuta e c'è anche, come dire, una narrazione solo unilaterale. Questa è una città a mille colori, lo diceva Pino Daniele. C'è il diavolo e c'è il santo. Stanno aumentando le persone che si prendono cura di Napoli e siccome questa rivoluzione non può essere fermata, oggi la risposta è siamo tutti con Arturo e dobbiamo fare tutto in modo che non accada mai più. È difficile, è una sfida difficile, ma la vinceremo. Una richiesta dell'opposizione e della maggioranza di sospendere i lavori per essere qui, un momento fondamentale della vita civile e della preoccupazione dei cittadini, dei genitori, degli studenti perché non abbia a prevalere questo modello di criminalità. Una grossa risposta che deve nascere dalle scuole, dai territori, dalla educazione senza rifugire in facili criminalizzazioni. A mio modesto parere ci sono 3-4 piccoli criminali, un ragazzo che ha subito una grave violenza ma una società che deve parlare di 4-5 vittime perché se a 12 anni si diventa così probabilmente c'è un problema precedente. Poi noi dobbiamo chiedere allo Stato di rafforzare i controlli di polizia, quante volte l'abbiamo detto in questi anni, quante volte l'abbiamo detto ma credo che l'arma principale per questa città è quello che sta avviando il riscatto di Napoli che è la cultura, perché la cultura genera rinascita, la rinascita genera economia, l'economia genera lavoro e il lavoro è una delle più grandi alternative per chi si sente smarrito. Poi dobbiamo creare, consentitemi, i punti di riferimento. Certe volte si ha l'impressione che dei ragazzi non abbiano punti di riferimento positivi, invece in questa città c'è una moltitudine enorme di punti di riferimento positivi a cominciare dai talenti di questi ragazzi che vediamo oggi. Ma consentitemi di dire anche le istituzioni di questa città che sul tema della criminalità e la camorra non sono tentennanti. L'abbiamo detto in tutti i modi, contro la camorra di strada, contro la criminalità comune e contro la borghesia mafiosa, quella silente, la mafia che entra nella politica e nelle istituzioni. Noi siamo schierati H24 su questo, ecco perché Napoli è una città che vincerà ogni sfida, perché quando vedi queste immagini capisci che il popolo è con noi.